E' di mercato la prima comunicazione ufficiale del 2018 della CR Messina che oggi ha definito gli ingaggi di due calciatori juniores. Si tratta del centrocampista Pierluigi Giudicelli e dell'attaccante Marco Stranges, entrambi provenienti dal settore giovanile del Cosenza ed entrambi classe 99, già in organico da un paio di settimane e ora a disposizione. Due pedine importanti per il tecnico Modica che così potrà arricchire il proprio parco under in due ruoli cruciali per la costruzione della squadra. L'allenatore giallorosso lo ha più volte sottolineato, sono gli juniores le pedine da cui partire nelle scelte della domenica, quindi l'arrivo di altri calciatori non può che aiutare Modica che fino ad adesso a centrocampo poteva contare sul solo bossa e avanti, escludendo Carini, spesso infortunato, su Mascari. C'è curiosità intorno ai due calciatori che però difficilmente saranno della gara dal primo minuto contro il Portici nel primo impegno del 2018, ma non è escluso un eventuale impiego a partita in corso. Si tratta quindi dei primi due volti nuovi dell'anno che si è appena aperto e resta da capire se e come opererà eventualmente la società in cerca di altri tasselli per completare l'organico.